Rossini, non è un mistero che la Champions sia una delle manifestazioni le quali tiene di più? Sì, è il mio primo anno, poi partiamo con delle aspettative importanti perché comunque conosciamo il nostro valore, sono sicuramente le aperciarie di stralivello, quindi ogni partita tocca conquistarsela come quella di stasera, però comunque vogliamo far bene, il Modena manca da tanto tempo, quindi ha maggior ragione. Che sensazioni ti hanno dato queste prime sei partite in Champions? Che conviene giocare il Golden Set in casa perché poi ad esempio si va in Polonia e c'è tutto un altro tipo di partita rispetto a quella che abbiamo giocato qui e questo comunque anche nelle mie esperienze passate di Coppa che non sono state di Champions, ma in generale sono sempre campi ostici, quindi dobbiamo essere bravi a sfruttare tutte le occasioni, soprattutto quando possiamo giocarcele in casa e stare attenti a tutti.